Musica Ci ritroviamo a distanza di un anno, uno spettacolo già portato in scena, un nuovo spettacolo si chiama Un ragionevole dubbio, di cosa parla? Eh, di cosa parla? Se sveliamo troppo poi nessuno viene a vederlo. In realtà mi fa piacere ritrovarti perché questo vuol dire che comunque l'Associazione Culturale Cine Micron continua e devo dire che quest'anno è stato un anno veramente molto importante perché c'è stato anche un altro corso, quindi abbiamo fatto già un altro spettacolo, inshallah che è andato in scena il 9 giugno è stato un grande successo. Un ragionevole dubbio, un ragionevole dubbio è una giuria, una giuria a cui viene sottoposta la possibilità di dover decidere se un imputato è colpevole, un ragazzo di 16 anni è colpevole o innocente. Di solito nelle giurie, quantomeno negli anni 50 in America, la prima cosa che si faceva era colpevole, colpevole, colpevole e tutti andavano sulla sedia elettrica. Qua ci sono dei risvolti, mettiamola così. Nei vostri spettacoli c'è una caratteristica, ossia tutto è molto minimal, poche scenografie, anzi quasi pochissimi elementi di scena, gli attori che comunque vanno in scena con degli abiti normalissimi, grande attenzione invece su quella che è l'ascelgiatura, su quello che è il parlato. E su quella che è l'emozione mi permetto di aggiungere, in questo caso invece loro faranno appugni con un vero spettacolo, con un vero testo questa volta, quindi mentre il lavoro dell'anno scorso erano per lo più monologhi, stavolta saranno 11 attori sempre in scena e ci sarà un ritmo forse nato e avranno degli abiti di scena. Quindi è una novità, Ignazio senza Simone, Simone senza Ignazio, come funziona il connubio? Funziona che in realtà siamo talmente tanto diversi che poi forse probabilmente le idee di tutti e due combaciano poi per fare dei prodotti, quantomeno in cui mettiamo molta anima, che è la cosa che per noi è importante. Tornando al discorso delle scenografie, io credo che il teatro è suggestione, cioè noi quando ci sediamo a teatro secondo me abbiamo, ci prendiamo l'impegno di quantomeno di staccare il cervello per quello che possa essere quell'ora, quell'ora e mezza, quell'ora e un quarto, in cui mi devo lasciare trasportare da quello che è la storia. Quindi secondo me poi tutto ciò che è scenografia in qualche modo viene creato da tutto quello che è interpretazione degli attori. Simone facciamo un appello per domani, chi vuole può venire qui in arena, tra altre cose si sta benissimo, veramente è arrivato ad una certa ora, spettacolo, gli undici attori sono già quasi pronti, stasera prove generali ma domani si debutta. Domani si debutta, speriamo di ripetere il successone che abbiamo avuto il 9 giugno con lo spettacolo dei ragazzi del primo anno, facciamo un appello per l'arte in generale, facciamo un appello per il teatro a Sciacca perché Sciacca ha bisogno di un teatro. Antonio Segreto, conosciuto a Sciacca per la sua attività, che trova tempo per dedicarsi a un laboratorio teatrale, come mai? Innanzitutto è un'esperienza bellissima, abbiamo fatto l'anno scorso un gruppo meraviglioso, stiamo facendo qualcosa che lo facciamo per noi stessi, tanto adesso al pub ci sta mio figlio e quindi ho più tempo per dedicarmi anche a me stesso. La cosa che le piace di più di questa attività qual è in particolare? Quelli dietro di te. Quindi stare con gli altri? Stiamo con gli altri, poi Ignazio e Simone sono molto bravi, quando non si arrabbiano tanto, però per il resto benissimo, molto bello. Da Antonio a Lucia, Lucia è molto più giovane, tu sei una studentessa, cosa ti ha spinto a fare questo tipo di esperienza? Più che altro quello che studio, io studio al Dams, che sarebbe disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo, mi ha sempre affascinato comunque il mondo teatrale, cinematografico, quindi volevo in un certo senso anche farne parte. Grazie.